Alla domenica inaugurale della 56esima Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna, il gusto dell'epregiato tubero è stato accompagnato dal tributo a quelle aziende tartufaie che da decenni si occupano di raccolta, lavorazione e distribuzione. Al teatro comunale Confartigianato ha deciso di premiare il lavoro di chi negli anni ha contribuito in prima linea a rendere il tartufo di Acqualagna quel brand di fama internazionale che è oggi. È un'inaugurazione della festa del tartufo ma è anche l'occasione per ricordare quanto sono importanti poi gli artigiani e produttori di tartufo nel nostro territorio. Fondamentali direi, un momento importante, un primo traguardo in un ritorno a una pseudonormalità e Confartigianato vuole ribadire la sua partnership con il comune di Acqualagna e con questa Fiera del Tartufo premiando quelle imprese che nel periodo di Covid hanno saputo comunque saper resistere, portare l'eccellenza sempre a livello internazionale e hanno saputo anche innovare, quindi la tradizione ma l'innovazione dei nostri imprenditori. L'artigianato è fondamentale, le nostre imprese sono fondamentali per mantenere vivo questo territorio. Il fatto di premiare le aziende significa riconoscere quanto è stato fatto ma è anche un'opportunità per fare sintesi e ripartire verso una sfida comune che è quella della competitività, della promozione e di restituire un'opportunità economica importante ad una terra che ha una potenzialità enorme. Confartigianato ha premiato a teatro quattro aziende di eccellenza, Acqualagna Tartufi, Tartufi Tofani, Marini Azzolini e Bernardini Tartufi. Stefania Tofani è stata premiata dalla Confartigianato Pesaro Urbino Ancona pochi minuti fa all'interno del teatro, qui vediamo la targa che è stata consegnata dal segretario Marco Pierpaoli, un'azienda storica per il tartufo e l'abbiamo visto in due occasioni oggi. Sì, oggi è una giornata di premi perché la prima premiazione è stata perché la nostra azienda sono 100 anni che è presente sul mercato e dal primo anno di fiera che siamo qui proprio ad esporre e quindi anche già da mio nonno a mio padre hanno fatto modo che Acqualagna venga conosciuto in tutto il mondo per i suoi tartufi. Poi una grande dimostrazione di resilienza perché la Confartigianato nello specifico vi ha premiati perché nonostante tutto l'anno scorso voi eravate presenti, non siete mai mancati nonostante il Covid. Sì, abbiamo cercato di tenere duro ma è stato molto pesante anche perché comunque il settore nostro è stato penalizzato col fatto che noi lavoriamo con i ristoranti logicamente, quindi è stato molto difficile poter mantenere anche il lavoro a tutti, però ce l'abbiamo messa tutte, ce l'abbiamo fatta.